È giusto che non ci sia più l'obbligo di portare la mascherina negli spazi aperti? Buonasera dalle voci di Verona, parliamo di DPI, parliamo di mascherine, di guanti e anche di come siano correlati con la nostra percezione del rischio. Lo sappiamo da inizio giugno, in Veneto non c'è più l'obbligo di portare la mascherina negli spazi aperti, fermo restando che deve essere indossata nei luoghi chiusi e anche quando non può essere garantito il distanziamento sociale. Un recente studio condotto da un matematico che chiarisce l'importanza della mascherina come deterrente visivo, ovvero quando indossiamo la mascherina siamo più portati a mantenere la distanza sociale tra le persone, mentre quando non indossiamo nessun dispositivo torniamo un po' all'era pre-covid. L'ordine dei medici di Verona ha stilato una sorta di vademai come di linea guida per l'utilizzo corretto dei DPI in ambito civile, quindi nella nostra vita di tutti i giorni ci sono troppe interpretazioni non corrette. Le mascherine restano fondamentali perché proteggono l'individuo dall'esterno e aumentano la sicurezza dei cittadini, è importante utilizzarle sempre oltre alle altre misure di sicurezza che sono rappresentate dalla distanza di sicurezza, dal distanziamento sociale e dalla lavaggio delle mani. L'indossare la mascherina è un qualcosa in più che di sicuro è molto utile all'interno degli uffici, all'interno degli esercizi pubblici, ma anche a nostro avviso aiuta psicologicamente il cittadino a ricordare che il pericolo non è passato. E quindi ha questa importanza, ma è il terzo step rispetto alla misura della distanza e al lavaggio delle mani. Ecco, quindi come giudica un po' l'ordinanza della Regione Veneto che da inizio giugno ha di fatto eliminato l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine negli spazi aperti? Come diceva anche lei, il deterrente visivo di vedere la mascherina è un po' venuto meno, quindi magari il distanziamento sociale è anche meno facile da osservare. Sì, allora la delibera della Regione Veneto del governatore mi ha fatto un po' paura, nel senso che poteva far sembrare è passato tutto, è passata la paura. In realtà dal giorno dopo, nel quale c'è stata questa delibera, ho visto quasi più gente indossare la mascherina di prima. Quindi in realtà la popolazione continua a portare la mascherina, quello che fanno più fatica a portarla effettivamente sono i ragazzi. Ma mi ha fatto un po' paura la delibera della Regione Veneto perché potrebbe aver fatto passare un messaggio subliminale che siamo fuori dalla pandemia. Siamo certamente fuori dalla situazione di massima pericolosità, siamo in una situazione di relativa sicurezza, ma non è passata la pandemia. Ecco, tra le vostre linee guide è anche l'utilizzo dei guanti che sappiamo essere un tema un po' controverso, nel senso che se si indossano i guanti e poi ci si tocca la faccia e non si fa attenzione, siamo da capo. Allora i guanti vanno bene se sono puliti, vengono indossati puliti e si usano per un breve intervallo di tempo e dopo si buttano via. Mi spiego. Entro al supermercato, utilizzo i guanti che trovo nel distributore a frutta e verdura, così non tocco con le mie mani i prodotti del supermercato, non torno al bancone, li utilizzo per eventualmente se devo usare del contante, ma all'uscita dal supermercato getto quel paio di guanti. All'aria aperta avere un paio di guanti non serve a niente, addirittura quella che chiamano la igienizzazione del guanto è una misura controproducente, perché serve in un certo senso a spalmare lo sporco, non dico il virus, a spalmare lo sporco che è sui guanti e a distribuirlo sulla superficie dei guanti. Va molto meglio togliersi un paio di guanti e non metterseli in tasca, perché nel momento in cui il guanto è sporco va a contatto, non dico con un fattoletto di carta che ho in tasca, ma anche all'interno delle tasche, oppure con i guanti tocco il telefonino o tocco il bancomat, ecco che trasferisco sul telefonino o sul bancomat le cose che avevo sulla superficie dei guanti. Quindi usarli poco e poi gettarli e soprattutto all'aria aperta non hanno alcun significato. Vedo tante persone che girano con i guanti, non servono, non hanno alcun significato. Ecco invece per tornare alle mascherine, soprattutto nei primi tempi del loro utilizzo, venivano anche adesso per la strada, si vedono degli utilizzi magari un po' impropri, magari la mascherina abbassata, sotto il naso. Ecco, come si mette correttamente la mascherina perché abbia una funzione reale? Allora parliamo della mascherina chirurgica che sarebbe quella diciamo autorizzata, quella che certamente protegge. Innanzitutto la mascherina chirurgica sappiamo che protegge per un intervallo di tempo limitato, dalle 6 alle 8 ore. Oltre questo intervallo di tempo la mascherina va buttata, la mascherina va maneggiata con cura, non deve essere toccata con le mani, non deve essere inumidita, deve essere fatta aderire bene al setto nasale e deve coprire il naso e la bocca. Dopodiché la mascherina lì deve rimanere e soprattutto non mi dispiace vedere alle volte persone che si incontrano, si avvicinano per parlarsi e per parlarsi si abbassano la mascherina. E' esattamente il contrario di quello che si deve fare, se uno vuole camminare per la strada con la mascherina abbassata può farlo se non è vicino ad altre persone, ma nel momento in cui incontra un amico, incontra un conoscente e si ferma a fare quattro chiacchiere, quello è il momento in cui la mascherina va tirata su e non il contrario. Spesso se lei fa caso, si vedono due persone che si incontrano e si tirano giù la mascherina, questo assolutamente è il contrario di quello che va fatto. Tutti negativi sono questi i risultati dei tamponi per accertare i casi di Covid tra i farmacisti veronesi, i risultati sono arrivati proprio oggi e testimoniano ancora una volta l'importanza dell'utilizzo dei DPI per una categoria così esposta come quella dei farmacisti. Teniamo conto che le farmacie fin dai primi giorni del contagio hanno portato avanti un sistema di protocollo importante di sicurezza sia per i collaboratori farmacisti e tutti gli operatori all'interno delle farmacie che naturalmente di conseguenza poi per la popolazione. È stato un risultato importante e una riprova della sicurezza del luogo, della farmacia e soprattutto dell'importanza dell'informazione che il farmacista tutti i giorni ha fatto anche alla cittadinanza, alla propria clientela. E questo è servito proprio a stabilire una sorta di link con la comunicazione, link con la cittadinanza per far capire alla popolazione quanto fosse importante la distanza sociale, i gelmani, le mascherine, l'utilizzo naturalmente degli entrati e degli accessi contingentati. Insomma tutto un lavoro di squadra che la farmacia con i propri collaboratori ha fatto e che è riuscita di gran lunga a portare avanti e ad avere come risultato poi di fatto la negatività nella fase dello screening dei tamponi. Ecco un mese fa anche Federfarma Verona aveva lanciato l'allarme come anche Federfarma nazionale per le mascherine chirurgiche che scarseggiavano. Poi c'è stata la diatriba con il commissario Arcuri. Qual è la situazione attuale? C'è stato poi un protocollo di intesa, lo sappiamo, si è riuscito a ufficializzare l'esenzione dell'IVA. La situazione attuale nelle farmacie veronese a livello di approvvigionamento di mascherine qual è? Direi che la situazione si sta stabilizzando in queste ultime settimane. Dopo l'accordo firmato con il commissario Arcuri naturalmente l'eliminazione dell'IVA dalle mascherine che ricordo in primariamente erano a 0,50 più IVA il 22 e poi a 0,50 definitivi. Di fatto la situazione si sta stabilizzando. Le farmacie stanno naturalmente approvvigionandosi di questi dispositivi di protezione dalla distribuzione intermedia con una discreta regolarità. Quindi direi che la situazione grazie al cielo fortunatamente lentamente si sta stabilizzando. E quindi l'utenza riesce ad ottenere, ad avere nelle farmacie questo tipo di dispositivi tanto necessari e tanto importanti. A Veneto da inizio giugno non c'è più l'obbligo di indossare la mascherina negli spazi aperti. Secondo lei è diminuito l'acquisto nelle farmacie di mascherine per questa ragione o comunque permane alta l'attenzione dei cittadini. Sappiamo che ci sono per la strada persone che la indossano, persone che invece hanno deciso di non indossarla più, fermo restando che negli spazi chiusi è ancora obbligatoria. Beh, devo dire che la farmacia comunque prosegue ancora costantemente in questa operazione di grande azione di convincere comunque la popolazione la responsabilità civica di portare specialmente, naturalmente nei posti chiusi, nei locali chiusi, la mascherina. Io direi che l'acquisto delle mascherine prosegue in maniera abbastanza frequente e abbastanza costante, proprio perché di fatto tenere alta la guardia è la cosa più importante che oggi dobbiamo avere ben chiaro tutti, proprio come comunità. E quindi noi stessi continuiamo a sostenere che l'utilizzo della mascherina sarà un'ulteriore sicurezza per il contenimento del contagio e certamente il fatto di poter non utilizzarla al di fuori dei locali chiusi quando uno va a correre, quando uno fa una passeggiata, è una sorta di pseudolibertà, cioè una libertà personale che ognuno di noi ha anche un po' sicuramente goduto ma mantenere alta la guardia è la cosa più importante per il futuro in particolare per ora che appunto ricominceranno i centri estivi appunto la ora che si può ricominciare a salire sugli autobus piuttosto che andare in treno, piuttosto che in aereo piuttosto che continuare ad avere giustamente una vita normale della quale però dobbiamo essere sempre garanti in termini di contenimento del contagio quindi attenzione a tutti noi a dire non stanchiamoci di portare queste mascherine perché anche in autunno la situazione potrebbe riproporsi speriamo assolutamente non con questa gravità però ci vuole ancora veramente molta cautela, moltissima cautela E voi cosa ne pensate? È giusto che non ci sia più l'obbligo di indossare la mascherina negli spazi aperti? Commentate e scrivete con l'hashtag Le Voci di Verona Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!